Le PMI sono in grado di competere con successo nel contesto di mercato solo se possono offrire un elevato livello qualitativo di servizi o prodotti. I giovani neolaureati possono quindi trovare nelle PMI un ambiente estremamente agile e stimolante dal punto di vista tecnologico e metodologico. La struttura di una PMI è infatti estremamente flessibile per rispondere in modo efficace alla richiesta dei clienti ed il neolaureato ha l'opportunità di cogliere sfide stimolanti che gli consentono di toccare con mano tutte le fasi del ciclo di vita di un progetto. Rispetto alle grandi imprese le PMI consentono relazioni più dirette con la direzione o la proprietà con la possibilità di contribuire alle scelte anche strategiche dell'azienda. Siano quindi molte occasioni per essere valorizzati come persona sentendosi parte di un team e ottenendo un immediato riconoscimento del proprio contributo rispetto agli obiettivi aziendali. C'è inoltre l'opportunità di fare esperienza nei vari ambiti e settori dell'impresa, dall'acquisto della materia prima alla progettazione e realizzazione sino alla vendita e dagli aspetti commerciali. Nelle realtà medio piccole le relazioni sono più dirette, i processi più flessibili e meno strutturati, la visibilità sui processi aziendali anche strategici è completa. Chi lavora in una PMI ha la grande opportunità di sperimentare quanto intraprendente mettendosi in gioco perché in una PMI può essere una rotella che diventa fondamentale mentre in una grande impresa sei il dentino di una di molte rotelle. Come scegliere dipende dall'attitudine di ognuno di noi. Se si cerca stabilità, un lavoro in processi e strutture ben definite con percorsi professionali tracciati, iniziare da una grande impresa è la scelta giusta. Chi ha fatto il Poli però ha investito per cambiare il futuro e la soddisfazione di poter fare la differenza in una PMI non ha apprezzo.